Adesso comincia appunto lo spazio che è dedicato all'approfondimento di quella che è la situazione negli Stati Uniti, siamo ormai vicini, manca solo un anno e mezzo, solo 18 mesi, ma in realtà negli Stati Uniti ancora si è cominciato a lavorare per le primarie del Partito Democratico, del Partito Repubblicano e quindi questo è lo spazio enigma americano a cura di Salvatore Antonaci che tra l'altro ho già in collegamento, quindi favoriamone l'inquadratura. L'introito. Pronto Salvatore, mi senti? Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Salvatore, salutiamo Salvatore Antonaci, voglio ricordarlo, famoso blogger con la sua Sentinella della laicità, giusto su Wordpress, giusto Salvatore? Sì, sentinelladelalibertà.wordpress.com La libertà e laicità diciamo. È stato un lapsus comunque positivo. Comunque c'è una stretta attinenza, quindi non si tratta di errore di sorta. Allora il titolo, anzi prima di fare ciò invitiamo l'altro partecipante a questa puntata di dell'enigma americano che è Luca Bocci. Se riesco a vederlo online, non lo vedo online purtroppo. Vediamo se c'è qualche problema, se magari Luca mi può scrivere qualcosa, perché io non lo vedo forse neanche tra i miei contatti. È online, è online. È online ma io non lo vedo tra i miei contatti, Salvatore, c'è questo piccolo, dovete perdonarci e c'è stato questo problema, dovresti dirgli di aggiungere il mio contatto. Risolviamo subito. Perfetto. Allora, leggiamo intanto a questo punto il titolo dell'enigma americano, il sottotitolo dell'enigma americano. Gli Stati Uniti tra crisi economica, paura del fallimento e nostalgie imperiali. Facciamo il punto ad un anno e mezzo da un voto cruciale. Conversazione di Salvatore Antonaci con Luca Bocci, che è il coordinatore del T-Part Italia, se ricordo bene, giusto? Dunque, lui fino a qualche mese fa era il portavoce di questa organizzazione e ha tenuto i contatti con l'interfaccia americana, uno dei principali interfaccia americana del movimento T-Part, che era i T-Part Patriots, se non che da qualche mese lavora a Londra e quindi ha abbandonato questa mansione. Naturalmente poi continua a occuparsi della realtà americana e riduce appunto da un viaggio in quel del Texas, dove ha partecipato una mega riunione di questi gruppi spontanei, insomma, nati un paio di anni fa, insomma, all'inizio del 2009, prima della, subito dopo, diciamo, l'elezione di Barack Obama alla Casa Bianca e quindi, insomma, come risposta immediata, diciamo, alle politiche dell'amministrazione che iniziava, diciamo, a fare le sue politiche e ovviamente anche di quella precedente, quella di George W. Bush, che naturalmente il fatto di interventismo statale non è certo, non si è rivelato secondo, diciamo, ai democratici con tutti i provvedimenti salvabanchi e che sappiamo, insomma, un pesante intervento della mano pubblica. Ok, quello che aveva causato i nostri problemi era un semplice underscore, l'underscore di Luca Bocci, è una battuta, dovremmo avere Luca Bocci in linea, però non vedo il vostro video, dovreste mandarmi anche il segnale video. Vediamo questa simpatica foto di Luca Bocci, però non vediamo, mi spero che Luca... Il video potrebbe essere un problema, sono poco presentabile. Dai, forse ci devo andare il video. Avete riconosciuto la voce di Luca Bocci, quello che è stato veramente il conduttore di una serata eccezionale per Tiburadicale, quella che è stata organizzata insieme a decine di blogger su Tiburadicale.it il 2-3 novembre, è stato uno speciale durato tutta la notte a partire dalle 11 di sera, condotto mirabilmente proprio da Luca Bocci. Ragazzi, io vorrei anche mandare il video della vostra immagine. Ecco, sta partendo la webcam di Luca. Salvatore, dovresti arrestare il video e rinviarlo. Ecco, Luca, c'è un po' tetro con questo... dovresti fare un po' di luce. È un attimo, accendo un attimo, apro un attimo la finestra, perché sai, l'Inghilterra qua è abbastanza. Siete al buio. Adesso sono le 17 in Inghilterra, giusto? Sono le 17, ma è veramente un tempo infame oggi. Ecco, perché ormai Tiburadicale fa i collegamenti anche con l'ombra. Molto all'inglese, diciamo. Ok, Salvatore, noi non vediamo la tua immagine. Appena ci mandi la tua immagine, io vi lascio lo spazio per questa conversazione. Recupereremo qualche minuto, non vi preoccupate. Ecco, sta partendo l'immagine di Salvatore. Dovrebbe esserci. Sta per arrivare. Arriva? Ecco, ci siete tutti e due, siete entrambi. Io vi lascio la parola. Buona conversazione. Se ci sarà qualche domanda da chat, me ne farò la torre. Un saluto a voi. Allora, grazie Roberto. Innanzitutto, non abbiamo i conforti di una ottima tazza di tè, visto l'orario, insomma, più londinese che italiano. No, 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 niente tè. Anche perché, soprattutto, questa sera dovremmo parlare di Stati Uniti, quindi, insomma, andiamo oltre Atlantico e certe... Eh sì, il caffè da qui. Il caffè da qui. Il caffè da qui, insomma, meglio lasciarlo, meglio perderlo che trovarlo. Quindi dai tempi, diciamo, del tea party in poi, quello storico, effettivamente, non è che ci fosse grande stima reciproca, anche se poi, vabbè, l'alleanza è stata ampiamente recuperata nei secoli successivi, fortunatamente. Il relationship, però, è molto meno special di qualche tempo fa. Allora, senti, Luca, io direi di iniziare, io avrei pensato di iniziare questa puntata parlando del protagonista della scena politica americana, che ovviamente è il presidente in carica, Barack Obama. Dopo l'eliminazione, diciamo, del nemico numero uno degli Stati Uniti, ovvero di Osama Bin Laden, capo della rete terroristica di Al-Qaeda, molti commentatori profetizzavano una facile replica del successo elettorale del 2008, visto l'enorme risonanza che l'evento ha avuto. Se non chiede, dopo meno di due mesi ci ritroviamo con dei sondaggi che sono scesi ai livelli quasi del, diciamo, del pre-blitz, attorno al 47%, ecco, nonostante il parterre repubblicano che non è che sia un granché, l'elezione, la rielezione di Obama non sembra per nulla scontata. Come vedi il momentum, diciamo, di Obama alla Casa Bianca? Allora, per riprendere le immortali parole del presidente, insomma del candidato di Clinton, it's the economy, stupid, il problema è sempre quello. La politica estera per gli americani è sempre stata una cosa piuttosto transitoria, sono cose che fanno piacere, però non cambiano la dinamica di un'elezione. In realtà si può avere appunto un bump nei sondaggi di qualche settimana, però poi fondamentalmente gli americani continuano a guardare al portafoglio, continuano a guardare al fatto che le liste di disoccupazione sono lunghissime, continuano a guardare al fatto di questa jobless recovery, come viene chiamata, e quindi che nonostante tutti i quantitative easing del mondo, uno, due, tre, quattro, cinque quanti ce ne saranno, per il momento la disoccupazione resta quella che è, di posti di lavoro seri non se ne parla neanche, gli unici posti che arrivano sono i cosiddetti Mac Jobs, cioè lavori part time, poco pagati, minimum wage, poco più, e l'economia continua ad essere il problema più grave. Quindi il Presidente continua ad essere visto come un Presidente molto indeciso, molto poco efficace, il Presidente che quindi verrà ampiamente punito alle urne, anche se appunto, come avevi detto te, anche se appunto dall'altra parte della barricata c'è grandissima confusione e molto poca chiarezza, tentativi velleitari come quello di Gingrich, anche lo stesso Romney che si è mosso molto bene, però in effetti al grosso, il grossissimo peso del Romney che quindi per buona parte dell'elettorato repubblicano è veramente indigesto e quindi non è stato quello che ha anticipato la cosiddetta riforma sanitaria di Obama quando era governatore del Massachusetts. Appunto il Romney Care, il cosiddetto Romney Care, ovvero il sistema sanitario che è stato preso a modello da Obama per la sua riforma, per il suo famoso o famigerato Obamacare, che è stato implementato in Massachusetts a partire dal 2005 e che ha visto delle dinamiche decisamente poco liberali, in quanto non è stato tolto il macigno sulla strada di una liberalizzazione seria del sistema sanitario, ovvero il fatto che i cittadini di uno Stato possano comprare assicurazioni mediche in altri Stati, quindi la clausola dell'Interstate Commerce è stata ancora ripresa dal Romney Care e soprattutto c'è il problema che i cosiddetti mercati di scambio, c'è un nome tecnico al momento che non sfugge, nel quale chi non vuole partecipare al sistema pubblico può comunque accedere alle assicurazioni mediche private, o agli HMOs in questo caso, Health Manage o qualcosa. Questi qua in realtà hanno funzionato in maniera da favorire le grosse presenze corporate, piuttosto che favorire la concorrenza, quindi concorrenza sempre meno, sempre i soliti agenti, oligopolio totale e quindi dal punto di vista sia del consumatore che dello studioso di cose economiche di sponda liberale, il risultato del Romney Care è stato disastroso. Quindi si presume, infatti che buona parte dell'opposizione dei repubblicani e dei Tea Parties all'Obamacare non era un'opposizione preconcetta pura e semplice, semplicemente era guardare il risultato del Romney Care e portarlo su scala nazionale. Cosa che in effetti ho un ritorno. Cosa che in effetti ho un'opposizione, semplicemente era un'opposizione, semplicemente era un'opposizione. non ti sento, non ti sento, non ti sento, ho solo il ritorno della mia voce. grazie. Pronto, pronto, pronto. Pronto? Sì, ora ci sono, ti sento. Oh, ecco, meno male, abbiamo recuperato in extremis il problema tecnico. Dunque, dicevamo Luca, nel secondo segmento vorrei affrontare appunto il campo minato delle primarie del Partito Repubblicano, perché come tu hai accennato, diciamo, citando due dei principali protagonisti che saranno Mitt Romney, attualmente il candidato establishment che sembra quello che ha maggiori possibilità di spuntarlo, alla fine è Newt Gingrich, che era un po' un ex speaker della Camera dei Rappresentanti negli anni 90, autore di Contact with America, insomma, però se a suo modo una mina vagante, insomma, era considerato un candidato, tra virgolette, poco serio. Cosa possiamo dire degli altri? C'è per esempio, vabbè, si ripresenta l'ottimo Ron Paul, che sappiamo posizioni molto pronunciate, no? Ron Paul è la mina vagante, in realtà, perché consideriamo che la candidatura di Newt Gingrich praticamente è dead in the water, quindi praticamente è morto, in quanto è notizia di pochi giorni fa che c'è stato un esodo di staffer dalla sua campagna, quindi di persone che lavorano nella sua campagna elettorale, perché sembra che ci sia in campo, o stia per scendere in campo, Rick Perry, ovvero il governatore del Texas, due volte rieletto, molto forte, sia dal punto di vista del fundraising, sia dal punto di vista della capacità organizzativa, e che avrebbe credenziali conservatrici abbastanza solide e quindi da poter attirare buona parte del voto del T-Party, o almeno di buone fasce del T-Party, perché cercare sempre di generalizzare è complicatissimo, specialmente quando si parla di una realtà fatta di decine di milioni di persone, in migliaia di gruppi, con agende spesso molto differenziate. A proposito di possibili... Ah, scusami, scusami. No, no, Ron Paul è veramente la mina vagante, perché in questo momento, chiaramente tutti gli straw polls che sono stati organizzati, cioè le elezioni di prova tra gli attivisti e le persone che insomma sono più addentro alle cose di politica, hanno visto stravincere Ron Paul. Da questo l'universo libertario si è molto caricato, è molto attivo, si sta mobilitando, forse come non mai, per riuscire a spingere la candidatura e dire stavolta ce la possiamo fare. Anche perché Ron Paul è un filtrato libertario in casa repubblicana, lui ha scelto la strategia entrista, diciamo, Lui è favorevole, diciamo, alla liberalizzazione totale dell'economia, diciamo, al contrario di molto protezionismo di casa repubblicana, poi liberalizzazione delle droghe leggeri, ad esempio, e altri argomenti che in casa conservatoria... La posizione di Ron Paul è particolarmente indigesta a molti, se non moltissimi, conservatori duri e puri, però fondamentalmente, visto che la chiave di questa elezione nel 2012 sarà con grandissima probabilità il fatto del fiscal conservatism, quindi praticamente taglia la spesa pubblica a feroci, riduzione barra eliminazione di progetti, di servizi sociali che sono eredità delle due grandi spinte verso il socialismo che ci sono stati in America, sarebbero tre, a dire la verità, perché la prima è quella di Wilson, la seconda è il New Deal, la terza è la Great Society di Johnson, quindi praticamente ad intervalli più o meno di 30 anni, 20 anni più o meno, 20 barra 30, perché la prima spinta fu la nazionalizzazione dell'oro fatta da Wilson e il fatto di uscire dal coin gold standard, cioè ovvero la possibilità di avere monete d'oro o di argento usate come legal tender, cioè come moneta legale, e poi la creazione della Federal Reserve, che secondo Ron Paul, ma non solo Ron Paul, secondo tutti gli economisti di scuola austriaca, è stata l'inizio della fine per gli Stati Uniti, perché da quel momento in avanti si è incamminati sempre di più verso una socialdemocrazia, nonostante la grandissima parte del popolo americano non ne voglia assolutamente sentire parlare di queste cose, però l'establishment e i poteri forti, come si usa a dire, hanno sempre spinto per questa cosa, ogni momento di debolezza dell'economia è stato sfruttato. Establishment demorepubblicano, dobbiamo dirlo. Sì, 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 Establishment Peter, Establishment Davos, Establishment... Tra spese militari, tra spese sociali, effettivamente si è arrivati a 14 trilioni di debito, insomma, una cosa colossale. Sì, sì, quello è quello ufficiale, quello è quello ufficiale, perché poi naturalmente bisogna guardare le liability, cioè praticamente nel calcolo del debito pubblico, non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, vengono considerati solo i debiti dello Stato in quanto tali, ma non, ad esempio, la differenza tra quanto incassa e quanto dovrebbe pagare o sta pagando il sistema di pensioni pubbliche o il sistema sanitario nazionale. Questo calcolo non è mai stato fatto, ad esempio in Europa, noi non sappiamo quant'è il buco dell'Inps da qui a dieci anni o non sappiamo quant'è il buco del sistema sanitario nazionale, perché viene tutto cacciato dentro, il bilancio pubblico e cercare di avere dei dati precisi è opera quanto mai difficile che i ragazzi e i bravissimi ragazzi... Ho letto qualche anno fa che si potrebbe arrivare attorno ai 60 trilioni dai 14 ufficiali, quindi c'è una montagna spropositata. Si parla di 60, alcuni calcoli sono in realtà 112 già da ora, perché si deve guardare appunto cosa succederà quando i baby boomers, cioè i figli degli anni 40, 50 e 60, inizieranno ad andare in pensione. Il boom demografico degli Stati Uniti è stato in quel periodo lì, subito dopo, nel primo dopoguerra, nel primo secondo dopoguerra, c'è stato un boom di nascite che è stato molto positivo per l'economia, in quanto ha preso e ha fatto il periodo di espansione dell'economia americana più lungo in tempo di pace. che è stato praticamente più o meno da Truman in avanti, con l'interruzione appunto degli anni 70 delle infauste presidenze Nixon, Ford, Carter, che sono state veramente un decennio perso. Quello che purtroppo si sta presentando ancora anche oggi, perché non sono pochi gli economisti e soprattutto gli analisti che iniziano a parlare già di lost decade, come per il Giappone, e quindi in America si sta passando dal periodo del default, quindi della banca rotta pure semplice, al pericolo di un lunghissimo periodo di crescita quasi inesistente, di stagnazione di inflazione, per il momento ancora non si è ancora vista l'inflazione, ma è solo una questione di tempo. Comunque a livello semantico il termine default è stato già sdoganato. Vedo sì, perché si guarda che ad esempio la banca centrale cinese sta dicendo che l'America praticamente è già in banca rotta. Mi sembra proprio una nemesi quasi biblica, quella che viene considerata la patria del liberismo viene giustamente rampognata dal super stato capital comunista. Avevo letto qualche giorno fa un articolo estremamente interessante nel quale si pensava che in realtà la Cina stesse provando a fare agli Stati Uniti quello che gli Stati Uniti avevano fatto alla Russia, all'Unione Sovietica, negli ultimi anni della Guerra Fredda, ovvero provocare la reazione in termini militari per schiantare del tutto l'economia. Ed è una cosa che da un certo punto di vista potrebbe essere ancora un messaggio trasversale lanciato dal complesso militare industriale che vede all'orizzonte i tagli. Infatti se ne parlava, persino certi repubblicani per esempio Rand Paul in prima fila parlavano della necessità di tagli all'enorme apparato militare industriale militare. Il ragionamento è che questo messaggio potrebbe essere letto da buoni cremlinologi. Dio santo, a forza di stare da queste parti sto perdendo il contatto anche con la lingua italiana. Quindi praticamente da persone che insomma erano abituate a leggere tra le righe delle Svezia, della Pravda per cercare di capire cosa ne pensasse il politiuro dobbiamo cercare di fare la stessa cosa. Quest'articolo è uscito fuori mi sembra su Foreign Affairs o World Journal una delle due riviste che insomma sono abbastanza legate all'establishment. Riviste di geopolitica comunque serie rispetto a quelle che girano queste parti. Sì, sì, chiaramente. Sono riviste abbastanza serie quando si parla di quello però quando un messaggio esce fuori su queste tribune pubbliche di solito vuol dire che è stato è stato visionato dall'establishment e che quindi è un messaggio che non va contro ai grossi interessi. Quindi il ragionamento che si può cercare di fare è che i casi sono due o effettivamente questa strategia è una cosa sensata oppure è semplicemente l'ennesimo tentativo di creare paura come negli anni 70 e 60 per prendere e quindi aumentare ancora le spese militari. Perché effettivamente negli anni 70 e 80 dal caso ad esempio del super caccia intercettore russo il MiG-25 il MiG-25 era il Foxbat detto Foxbat in terminologia NATO era un caccia del quale si diceva che era potentissimo, velocissimo in grado di distruggere tutti i bombardieri americani una cosa molto rosa un bel film ne rigavò un bel film anche Clint Eastwood questo Firefox in effetti era un'allegoria era un'allegoria del grande caos scatenato dall'introduzione di questo caccia che effettivamente poi dopo quando abbiamo visto alla fine della Guerra Fredda le caratteristiche era una cosa veramente insensata dal punto di vista militare perché era stato creato per prendere e contrastare la minaccia del Valkyrie cioè del B-70 il bombardiere strategico supersonico che è stato in testing per anni e anni dalla Lockheed ma che poi in realtà fu cancellato da Nixon quindi in realtà quella che per l'Unione Sovietica fu una cosa folle cioè spendere grandissime somme per creare un caccia intercettore la sua unica missione era quella di salire molto in fretta andare molto veloce per intercettare un bombardiere supersonico che poi non è mai stato realizzato in realtà venne usato dall'apparato militare industriale per considerare quindi per generare nuova spesa e per quindi arrivare poi all'F-15 cioè che in realtà dall'F-4 all'F-15 cioè in caso di caccia intercettori l'F-4 andava ancora bene per più o meno un'altra ventina d'anni non aveva grossi problemi a proposito di cose militari ovviamente sotto i riflettori negli ultimi mesi c'è la guerra che si sta prolungando oltre ogni aspettativa in Libia un intervento che è stato molto contestato non solo dai repubblicani ma anche da settori democratici per esempio c'è un'alleanza inedita tra Dennis Kosinic l'ultraradical diciamo senatore del deputato dell'Ohio pardon e i falchi conservatori più vicini al T-Parkinson è un'avventura molto impopolare come pensi è un'avventura insensata in puro stile chinesiano ovvero spendere 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 tanto per aumentare la domanda aggregata mi spiace essere scivolare in cose tecniche però bene o male la ragione di questo intervento è questa siamo andati a cercare un posto al mondo geopoliticamente poco rilevante di nessuna importanza per gli Stati Uniti quindi per gli interessi fondamentali degli Stati Uniti la Libia è veramente zero importanza oltretutto molto negativa dal punto di vista dell'alleanza in quanto è terreno di caccia di non uno ma due alleati storici uno più allineato uno molto meno allineato l'Italia molto allineata la Francia molto meno allineata quindi generare una frizione come quella che sta avvenendo tra le due grandi potenze del Mediterraneo occidentale è una cosa che dal punto di vista degli Stati Uniti ha tutto da perdere niente da guadagnare quindi l'unica ragione per questo intervento sembra quella di giustificare qualche spesa in più sempre in termini chinesiani ovvero aumentare la spesa in qualche modo oppure per dare un contentino all'apparato militare per dire guardate che anche con il nostro grande leader Obama qualche solda arriva anche a voi quindi potrebbe essere vista come una mossa trasversale per tacitare parte dell'establishment che è vissuto negli ultimi 30 anni con la spesa militare però allo stesso tempo con dei fini geopolitici molto discutibili e molto vaghi perché tendenzialmente per gli Stati Uniti non è quella l'area importante del mondo comunque Luca una cosa una cosa da riscontrare diciamo è il fatto che per quanto va dalla politica estera c'è una continuità abbastanza netta tra la diciamo tra la seconda perlomeno amministrazione Bush e quella Obama nel senso che la seconda è ereditato molto del personale che aveva collaborato con il presidente Bush cioè per esempio il caso più emblematico è quello di il generale Petreus che sarà a capo fra poco della CIO ovvero della più grande agenzia di spionaggio estero del mondo cioè della più grande agenzia della più grande agenzia super burocratica zero efficace è un enorme spreco di soldi pubblici vuoi dire esattamente e la CIO semmai per i complottisti e per i sinistri vari di tutte le latitudini è sempre il bau bau l'uomo nero il colpevole di tutti i cosi in realtà la CIO è a un livello di efficacia veramente insignificante cioè è stata devitalizzata è stata burocratizzata è diventata una specie di grande servizio postale che in America è tutto dire perché quando si vuol parlare del fatto che lo Stato non funzioni si cita sempre il caso delle poste beh non è che qui ce la passiamo molto meglio dopo quello che è successo la settimana scorsa c'è stato un blackout generalizzato sì vabbè ma almeno qui in ogni caso uno potrebbe dire cioè qui lì lì da voi insomma sono più o meno privatizzate insomma con partecipazione pubblica però tendenzialmente privatizzate quindi l'idea è un po' quella che qui si va a ridire quello che Christian Rocca dice da una vita ovvero che dal punto di vista di politica estera Barack Obama in realtà è Bush 3 però fondamentalmente direi che è una cosa non da ascrivere a suo merito o demerito molto semplicemente la politica estera per Barack Obama non è mai stata importante il suo scopo è sempre stato quello di continuare nella socializzazione dell'economia continuare a tenersi buoni i suoi finanziatori che non sono solo i sindacati quelli in primis perché chiaramente i sindacati dei dipendenti pubblici degli insegnati eccetera sono la sua constituency principale ma in realtà gli altri suoi finanziatori sono le grandi ditte di Wall Street ovvero Goldman Sachs ovvero gli omini grigi come si chiamano gli omini grigi Soros eccetera quindi in realtà ha da tenersi buone queste due grosse constituency che bene o male lo ricattano da una vita perché diciamo la verità questa questione del del certificato di nascita che sembra che poi in realtà fosse stato modificato al computer non si sa bene l'originale non c'è non si riesce mai a capire questo discorso parte una mossa tattica il che è abbastanza chiaro perché hai preso con questa poca chiarezza hai lasciato buona buona parte del del mondo conservatore più radicale si è scatenato e quindi si è perso ricordiamo che la Costituzione prevede che un cittadino per candidarsi ed essere eletto alla presidenza degli Stati Uniti deve essere nato tassativamente natural born citizen la definizione è quella natural born citizen cioè cittadino nato negli Stati Uniti non solo da genitori americani ma nato negli Stati Uniti da qui si era arrivati anche a discutere sul fatto se il il nostro buon John McCain fosse candidabile o no quanto è nato a Panama anche per Schwarzenegger perché qualche anno fa si vociferava di uno possibile di una modifica di una modifica alla poi per fortuna non siete fatto nulla visto l'ultimo andazzo diciamo delle posizioni il buon governator il buon governator sarà bene che torni a fare che torni a fare l'attore o se ha neanche la possibilità produttore o qualcosa lasciamo perdere lo stato in cui ha lasciato la California è veramente pietoso e anche questa sarebbe una storia che da noi si è raccontato molto poco in Europa si è raccontato poco se non niente il fatto che la California stia cioè non stia è già in bancarotta la California è in bancarotta l'Illinois lo stato di Obama è in bancarotta cioè non non c'è nessuna possibilità che riesca a finanziarsi come non c'è nessuna possibilità che il governo federale riesca ancora a rifinanziare le cose visto che la situazione debitoria degli Stati Uniti dal punto di vista federale è altrettanto disastrosa quindi è una storia che non è stata raccontata ho parlato qualche mese fa sul mio blog appunto di questo confronto tra la vecchia America quella che un tempo era la terra delle opportunità la costa ovest e la nuova America che è il sud la nuova America è il sud metà dei posti di lavoro che sono creati negli Stati Uniti sono creati in Texas e altrettanti sono creati negli Stati tipo la Georgia che è in grossa crescita economica e vari altri Stati ex poveri semplicemente perché questi Stati hanno avuto due cose a loro favore la prima è una politica fiscale molto più morigerata per dirsi quindi sono i debitori non così importanti ma soprattutto il fatto delle tasse locali che anche questa è una questione che in Europa non si riesce a capire perché noi abbiamo abbiamo questo luogo mentale del dire ah gli Stati Uniti hanno le tasse basse eccetera cosa che non è assolutamente vera perché si va dal Texas detto proprio perché ha le tasse locali altissime fino agli Stati appunto come il come il Nevada che hanno tasse quasi insignificanti il Texas stato di Las Vegas ha tasse quasi insignificanti e per non considerare altri Stati come possono essere il Nord Dakota nel quale se vai lì e compri del terreno il terreno praticamente ti viene regalato non credo che gli ascoltatori sappiano di questa possibilità sono stati che hanno molto poca popolazione hanno tasse locali praticamente inesistenti sono molto business friendly solo che chiaramente dal punto di vista logistico le città sono piccole molto distanti eccetera eccetera il clima è quello che è quindi peraltro in Texas peraltro in Texas Luca ci sei stato e ci sei stato recentemente per una per un'occasione diciamo ufficiale importante se ce ne vuoi parlare brevemente sicuramente dal 14 al 18 aprile in coincidenza con il Tax Day quindi il giorno nel quale gli americani fanno la dichiarazione dei redditi e si reddano conto effettivamente di quanto loro costa tutta la grande amministrazione tutte le grandi promesse ci sono state una serie di manifestazioni dei Tea Party organizzate in tutta la nazione in quanto portavoce di Tea Party Italia ero stato invitato a una di queste che si è tenuta a Grand Prairie vicino a Dallas ed è stato un grosso evento organizzato in uno stadio da baseball con un palco organizzazione super efficiente tutto quello così e sono stato lì a parlare appunto dell'esperienza europea ma soprattutto di come gli Stati Uniti siano su una slippery slope come si dice cioè un cammino molto scivoloso nel quale con qualche promessa con qualche passo falso la strada verso il socialismo in salsa europea ormai è definita è stata un'esperienza veramente allucinante perché quattro giorni di corsa da un incontro all'altro parlando con molti leader di parti locali con organizzazioni che si occupano di dare supporto di dare formazione eccetera come American Majority un gruppo estremamente estremamente efficace non mischiato nelle cose di Washington come possono essere alcuni degli altri degli altri gruppi che sono da supporto fino a un certo punto altri parti come possono essere Freedom Works American for Prosperity eccetera i parti express e varie altre cose peraltro i parti express hanno preso una posizione un po' così perché nel dibattito appunto del GOP hanno detto beh ragazzi qualsiasi candidato esca fuori persino Romney noi lo votiamo cosa che non è andata molto come dire molto a genio alle altre organizzazioni come ti parti ormai non penso di dire niente di dare notizie riservate o cosa nel dire che ormai è guerra aperta tra le varie organizzazioni di supporto antiparti Americans for Prosperity e Freedom Works si guardano in Cagnesco America Majority ha detto noi non vogliamo avere niente a che fare con questi altri t-party patriots grande organizzazione grande numero di t-party incluso ci sono persone che iniziano a storcere la bocca perché ci sono alcuni che hanno avuto che hanno avuto posizioni di responsabilità con relativi stipendi e questa cosa non è piaciuta per niente ai rank and file cioè ai t-party medio questa cosa non è piaciuta per niente però c'è grossissima confusione non si sa veramente comunque diciamo la cosiddetta rivoluzione americana non si è fermata perché anche voglio dire il contributo che stanno dando al congresso ultiparti questo soprattutto Rand Paul Mike Lee è abbastanza importante insomma il ragionamento è quello i movimenti grassroots importanti come i tiparti nati spontanei e che poi stanno cercando di strutturarsi non possono mantenere un livello di impegno costante per mesi barani questa è una cosa sulla quale Obama ha contato molto Obama sperava Obama ha chi per lui insomma è democratici alla Pelosi alla Pelosi Reed eccetera io ti dirò di più anche dall'altra parte c'è qualcuno che spera ma non qualcuno moltissimi perché i GOP se potesse far fuori tutti i riparti sarebbero estremamente contenti di questo perché ho letto un articolo di qualche giorno fa non mi ricordo su forse su politico è uno dei principali siti di cose politiche americane ricicciava fuori l'ipotesi del terzo diciamo del terzo partito della possibilità di una candidatura indipendente al di fuori del repubblicano che significherebbe quello che significherebbe rielezione automatica per Obama chiaramente il ragionamento però è che ci sono moltissimi moltissimi tipati locali che sono estremamente frustrati dal dall'andazzo che è stato preso queste cose e che non parlano solo in termini possibilistici di un terzo partito ma sembrano molto più decisi col dire signori noi vi abbiamo mandato a Washington avete due anni vi siete già giocati sei mesi non avete combinato granché noi vogliamo cambiamenti molto più radicali molto più decisi se non ce li date entro il 2012 entro l'inizio del 2012 ne traremo le conseguenze quindi niente è ancora deciso niente ancora fatto chiaramente ci sono gli strateghi ci sono quelli che insomma strategos appunto che ragionano in termini più del meno peggio e iniziano a guardare le cose a dire no non possiamo fare terzo partito perché terzo partito è sempre stato fallimentare però chiaramente dimenticano una cosa dimenticano che tutti guardano il congresso ma nessuno guarda i congressi degli stati nei congressi degli stati ci sono centinaia migliaia di candidati che devono tutto ai tiparti perché gli hanno dato non solo i contributi ma anche il personale politico anche la campagna elettorale non hanno avuto problemi l'hanno organizzata direttamente ai tiparti locali quindi non solo ma anche a livello di contea a livello di distretti scolastici ci sono veramente decine di migliaia di nuovi della politica neofiti che sono entrati nel mondo della politica grazie altri parti e che sono ormai dentro al meccanismo quindi anche la possibilità di third party quindi di avere un terzo partito in questo caso è vista come sempre una possibilità perché il piano fondamentale era quello di adesso ci prendiamo il partito repubblicano eh sì una scalata diciamo l'idea era quella era molto semplice il nostro piano è quello prendiamoci il partito repubblicano il problema però per per questo piccolo passaggio è che va tutto bene fino a quando non si arriva a Washington quando si arriva a Washington le cose si impantanano c'è quello che dice che all'interno della Beltway ci vuole un diverso tipo di skills cioè ci vogliono delle persone che siano in grado di fare cose diverse mentre ad esempio eh anche conoscendo queste persone non solo in Texas ma anche altrove ho trovato moltissime persone che sono bravissime a parlare faccia a faccia con le persone a organizzare le cose a livello basso organizzatori bravissimi veramente però quando poi dopo gli si chiede di fare il passaggio ulteriore cioè del dire ok adesso pensiamo a Washington adesso pensiamo a a soluzioni ragionevoli per riuscire ad avere a fare il cambiamento ma non semplicemente cancelliamo tutto eh questo passaggio è molto difficile perché ci vogliono appunto tipi di persone diverse il Tea Party è sempre stato un'organizzazione estremamente meritocratica ma senza un'autorità l'autorità continua a non esserci quando i giornalisti occidentali europei vanno in America continuano a chiedere chi è il capo fammi parlare con l'addetto stampa chi comanda qui nessuno è una cosa che non riescono a capire come nessuno no nessuno io ho parlato con uno dei responsabili del Tea Party di Dallas che è uno dei Tea Party più forti di America con 50.000 membri 50.000 attivisti che riescono a mobilitarsi nel giro di pochissimi giorni quindi una potenza in ambito locale però quando gli ho chiesto ah vabbè ma sei il segretario te cosa dice ma che segretario no io sono uno che si occupa di queste cose semplicemente ho più tempo è un avvocato parla molto bene è stato fatto con senza tessere senza membri quando ti dicano quanti membri avete un po' la stessa cosa che succede da noi in Italia o in Australia o negli altri parti internazionali ma quanti membri avete boh non lo so non lo so più o meno e poi dire lo spontaneismo comunque a quei limiti che tu dicevi cioè che alla fine poi mai no il fatto di non riuscire a fare bene la transizione cioè le le capacità che servono ad un leader di un Tea Party locale per riuscire a organizzare a far crescere il proprio gruppo sono diverse da quelle che poi a livello nazionale gli consentano di sfruttare questa forza che è un po' il gioco dell'uovo della gallina vediamo anche ad esempio molti tiparti internazionali tipo ad esempio i ragazzi i ragazzi di libertà che rida in Argentina dal punto di vista intellettuale e ideologico sono anni luce avanti agli americani perché si vede che c'è un numero di persone molto preparate intellettualmente che saprebbero benissimo cosa fare come fare eccetera però loro manca il lato grasso quindi non riescono ad avere i numeri in America invece hanno i numeri ma non hanno le capacità poi per tradurre questa grande forza politica in risultati politici è un po' tu peraltro stai cercando diciamo di fare una specie di lavoro di liaison tra i vari gruppi tra virgolette di partisti mondiali per creare una specie di fondamentalmente internazionale adesso non voglio dipingere uno scenario tipo spectre di James Bond insomma a didattere però stai facendo un lavorone dietro le quinte l'international l'international party network già esiste e sono i party di dieci paesi perché se ne sono aggiunti due ultimamente praticamente si è aggiunta la Polonia e si è aggiunta la nuova quindi buona sapersi adesso siamo arrivati a dieci sono dieci paesi tra cui appunto Australia Canada Italia Spagna Argentina Giappone più vari altri appunto è un progetto è un progetto parallelo a quello che stiamo cercando di diciamo di portare avanti noi altri dell'interlibertarian stiamo cercando di aggregare movimenti organizzazioni think tank libertari da portare in quel di Lugano l'anno prossimo quindi ora chiaramente chiaramente una cosa non esclude l'altra perché noi fondamentalmente questa iniziativa ufficiale barra non ufficiale perché in realtà poi a portarla avanti siamo stati tre quattro persone è quella di riuscire a dire mettiamoci in collegamento facciamo riusciamo a trovare e a mettere in comune le risorse che abbiamo che non sono molte perché chiaramente chiunque si proponga di ridurre la spesa pubblica e di cacciare burocrati nulla facenti di togliere le municipalizzate togliere le poltrone chiudere Equitalia cose del genere chiaramente finanziamenti non ne ha la stampa mica non ce l'ha non ha forum a parte appunto tv un liberale grazie grazie molto a parte questo quindi noi abbiamo le risorse sono quelle che sono le persone sono quelle che sono tutti abbiamo lavoro tutti ci impegniamo il tempo è quello che è e quindi stiamo cercando semplicemente di dire beh se c'è una persona in Australia che è bravo a fare le vignette perché no le può fare anche per il sito per il sito argentino se in Canada c'è un ragazzo che è bravissimo a programmare perché io devo stare a cercare qui in Italia una persona che mi aiuti a fare un sito internet per mettere per rendere le cose di dominio pubblico per fare informazione eccetera molto più semplice se chiedo a lui quindi visto che la forza del Tea Party è sempre stata la rete noi stiamo cercando in maniera non spontanea perché in America è nata spontaneamente questa rete perché fondamentalmente parlano tutti la stessa lingua hanno tutti gli stessi valori di base a livello internazionale è chiaramente molto più complicato perché non esiste un linguaggio comune perché ad esempio noi abbiamo grossi problemi in interfacciarsi con i Tea Party di Tokyo con i giapponesi perché il loro livello di inglese è quello che è e quindi non riusciamo bene a interfacciarci con loro però che a questo punto abbiamo saputo che c'è un amico del Dallas Tea Party che ha vissuto molti anni in Giappone parla benissimo il giapponese e si è offerto di farci da interprete queste sono queste cose la serendipity come si chiama cioè sono cose che non puoi prevedere però succedono chiaramente noi abbiamo ancora circa dieci minuti perché la trasmissione si prolunga fino a circa le diciannove quindi abbiamo dieci minuti suggestioni suggestioni dalla chat ah è Roberto dici Roberto sì scusate scusate l'interruzione se siete d'accordo io andrei avanti altri cinque minuti perché stiamo preparando il collegamento con Casetta con Luca Bove quindi tra cinque minuti vi interverrò di nuovo e vi saluterò insomma vi ringrazierò intanto non ci sono domande dalla chat c'è Libertarian che vorrebbero farvene tante ma purtroppo a deprevenire con la connessione non riesce ad ascoltarvi e il mitico Luca Fusari vi ridò la linea e ve la tolgo Luca Fusari deve fare una class action contro qualunque sia il provider internet perché veramente è una difficoltà parliamone male Vodafone parliamone male no no non sono sicuro perché aveva detto che forse aveva abbandonato Vodafone ma in ogni caso parliamo diciamolo di tutto il male possibile mi assumete la responsabilità di quello che state dicendo io non c'è chiaramente tanto io sono nel Regno Unito a me mi sembra abbastanza difficile che vengano a prendermi pure qua a Vodafone inglese è bellissima è fantastica è meravigliosa quella italiana almeno in Mantua a Curtatone è un disastro perché è da sei mesi che tutte le volte che proviamo a organizzare qualcosa il buon Luca Fusari ha sempre problemi di connessione è un problema è una roba grossa va bene ragazzi da questi canali purtroppo ha dei problemi il problema dicevamo proprio l'altro giorno Luca anzi ti faccio io una domanda probabilmente internet anzi sicuramente internet lo è già lo diventerà sempre di più la chiave di volta per ribaltare anche determinate situazioni politiche e affermare determinati diritti determinati libertà la nuova frontiera della democrazia è il sono le libertà digitali e quello che paga l'Italia è proprio di avere quel costo di avere una banda larga è di fatto inesistente se non nei grandi centri urbani questo è un digital divide pesantissimo come sono messi in quel di Londra? in quel di Londra te dico la verità in quel di Londra le connessioni sono abbastanza a buon mercato però naturalmente sono in download in upload è abbastanza complicato ancora avere una connessione seria c'è chi dice che appunto è solamente per problemi tecnici visto che appunto ADSL è asimmetrica quindi in ogni caso l'upload è molto meno del download mentre per chi vuol fare servizi via internet appunto streaming eccetera quello che conta è l'upload è quella la grossa il grosso problema però io ad esempio posso dirlo molto tranquillamente perché lavoro in una ditta che fondamentalmente lavora solo su internet noi facciamo streaming di notizie di notizie sportive quindi video eccetera highlights ma anche dirette via internet e chiaramente è una ditta che lavora esclusivamente su internet quindi è possibile farlo però è possibile farlo chiaramente dove? a Londra non potevamo avere un ufficio in Italia perché in Italia è impossibile avere delle connessioni di livello serio comunque quella che stiamo utilizzando quando abbiamo ripreso le trasmissioni abbastanza buona che abbiamo un mega in upload diciamo praticamente effettivo abbastanza buono ne servirebbero almeno due per essere più contenti questi sono i requisiti sono i requisiti che ad esempio quando ogni tanto la ditta per la quale lavoro fa anche delle coperture di diretta dal vivo quindi manda una troupe con delle telecamere per riprendere degli eventi sportivi tornei di tennis eccetera chiaramente cerca sempre di avere una connessione internet con almeno due megabit in upload perché altrimenti a proposito di tennis Luca correva voce di una tua possibile iscrizione nel tabellone di Wimbledon puoi confermare? no no assolutamente non abbiamo neanche diritti bene ragazzi allora mi sembra che stiamo concludendo nella maniera migliore Luca io voglio sperare che tu magari continuerai a collaborare con noi ed essere nuovamente nostro ospite perché la bella conversazione che ha avuto con Salvatore è sicuramente da replicare magari anche con altri ospiti più che volentieri però magari avvertetemi un po' prima così magari evito di presentarmi qua in completo sei benissimo ti assicuro che sei ideogenico va bene ringraziamo ringraziamo Salvatore Antonaci ringraziamo Luca grazie a voi ringraziamo per la bella trasmissione ritorniamo in studio li salutiamo e prepariamo il prossimo collegamento che diciamo in questo momento possiamo dire che parte il qui caserta e ci colleghiamo con Luca Bove che dell'associazione radicale caserta legalità e trasparenza è proprio il segretario con Luca